La regione non deve niente al consorzio di bonifica di Ragusa, a sostenerlo con fermezza l'assessore all'agricoltura Antonello Cracolici. La spedizione palermitana dei vertici sindacali di CGL Cisle Will non ha quindi portato i risultati sperati per i dipendenti che aspettano di ricevere sei mensilità. I lavoratori in questi giorni avevano anche occupato la sede del consorzio per sollecitare l'intervento da Palermo. Adesso però le parole dell'assessore che sostiene che la somma di 1.900.000 euro per il biennio 2011-2012 è già stata erogata lasciano tutti spiazzati. Ci si chiede a questo punto dove siano finiti i soldi stanziati, visto che degli uffici dell'ex provincia fanno sapere che Ragusa avrebbe ricevuto meno rispetto ad altri territori. Insomma il caos e la confusione regnano sovrani e i sindacati chiedono chiarezze che qualcuno spieghi le incongruenze entro fine anno. Ad aspettare risposte chiare le 150 famiglie che aspettano di ricevere la retribuzione da luglio e che adesso fanno le spese di diversi contenziosi aperti, come quello con il comune di Modica che dovrebbe al consorzio ben 800.000 euro per il pagamento dell'acqua erogata ai modicani. Nel canto sul primo cittadino abate giustifica il debito accusando il consorzio di non aver rattoppato le strade di competenza comunale. Grazie a tutti.